Sostituzione per l'Inter, esce il numero 9, Jürgens, dentro il numero 38, Carboni. Valentin Carboni salta il portiere, cross in mezzo per Fabian! Valentin Carboni che danza sulla linea laterale, prova anche a puntare la porta. Ora il tocco per Zanotti, forse un po' lungo, Zanotti va comunque al cross, una bella palla, la lascia lì, Valentin Carboni! 1-0 Inter, il primo gol in primavera di Valentin Carboni, Inter in vantaggio. Valentin Carboni, rientra sul sinistro, Carboni prova a piazzarlo! Super gol di Valentin Carboni che spacca in due la partita, 1-0 Inter! Assegnato per Inter, sono il numero 38, Carboni e Valentin. Sì, è gentile, il Campeonato per l'alba di Stigion, 2-1, 2-1, 2-1, 3-2, 3-2! Assegnato per Inter, sono il numero 38, Carboni, Inter in vantaggio, 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 Inter in